Se vogliono la guerra, allora lo darmo a loro! La sua gelosia, tipo dice I like your mount, perché questo? Perché in Dota aveva una cavalcatura. Oppure quando combatte contro eroi che hanno i baffi, dice nice mustache, cioè dai baffi, perché in Dota lui aveva i baffi. Come ultima cosa, in Dota per esempio, essendo un nano, era ancora più razzista con le altre rasse, o che non erano umani. E quindi qua adesso, in Dota 2, è ancora più generale, quindi molto spesso fa delle provocazioni. Un'altra cosa che dice, cioè una frase che dice Tresdin, è War. War always change. Che è un riferimento all'apertura della saga di Fallout. War never change. Bene, ora, a parte questa piccola sezione di curiosità, andiamo invece a, diciamo, ai pro e contro. Allora, come pro ha un'eccellente capacità di farmare grazie al momento di coraggio. Poi ha la possibilità di farmare in foresta, che la vedo come una cosa che aiuta e basta. Insistenza all'attacco vi permette di curare voi e i vostri compagni di lane, se siete sotto pressione, garantendovi una maggiore presenza in lane. Vasta gamma di oggetti di cui può beneficiare, perché vedremo che praticamente c'è, ne ha un casino. Poi, a mid game, cioè a metà partita, con insistenza all'attacco diventa un ottimo pusher. Cioè, si mangia letteralmente le torri. Cioè, una capacità di push è paragonabile sulla quella di un Geekan. Passiamo ai contro. È dipendente dalla sua finale, che costringe a stare fermi sul posto, rendendovi esposti e imboscate. Infatti, diciamo, ai giocatori esperti non piace molto il Legend Commander. Perché, avere una finale che ti obbliga a stare fermo in un punto, è vero che blocca anche l'altro. Però, di solito, non è una cosa che piace, perché non si può annullare e non si può fare niente. E quindi, non è il massimo. Poi, come contro, è un pericolo, perché potete potenziare gli avversari con i vostri duelli che perdete. Quindi, questa è una cosa negativa. E in più, le disabilitazioni e gli stun, cioè, quelle abilità nemiche che possono bloccarvi, vi faranno tirar giù i Santi. Bene, ora qua, cioè, ci sta per forza una sezione note sulle abilità, ovvero, cioè, sia Treslin che il suo avversario vengono ammuturiti, mentre sono sotto l'effetto del duello. Quindi, non possono lanciare incantesimi. Usare oggetti e la maggior parte delle abilità passive sono disabilitate, ok? Però, momento di coraggio del Legend Commander funziona durante il duello. Però, le abilità che danno l'evasione, come per esempio la passiva del Phantom Assassin, non funzionerà. Se state duellando contro un nemico che ha Legis e viene ucciso, riceverete comunque il bonus, dato che il duello, anche se ritorna in vita, comunque voi l'avrete vinto. Consigli Cercate di usare la vostra finale duello su nemici che sono relativamente più deboli di voi, support, o che abbiano poca salute rimasta al fine di essere sicuri che il bonus sia dato a voi. Una volta che sarete farmati con oggetti come Desoratore, Mjolnir, potrete usare duello per bloccare e uccidere direttamente gli avversari, come per esempio un Anti-Mage, impedendogli di teleportarsi via. Probabilità schiaccianti Può esservi utile lanciarlo nel caso un eroe vi scappi a poca vita, vi farà danno e in più darà a voi la velocità di movimento bonus per raggiungerlo. Utilizzatelo anche quando i nemici girano tutti assieme in 5, dato che più sono, meglio è. Ancora meglio se assieme a loro colpite anche i loro creeps. Legend Commander funziona bene con i gankers, specialmente Bloodseeker, che gli permette di individuare i nemici con poca salute. Pudge è un eccellente compagno di squadra, dato che i nemici più accorti sanno che non devono avvicinarsi troppo a voi per paura del duello. Pudge può arpionarli a sé e disabilitarli con la sua finale. In questo frangente, approfittatene e ingaggiate un duello in questo modo. Voi riceverete il bonus per il duello vinto e Pudge riceverà il bonus di forza per la sua passiva. Se state duellando e un vostro alleato dà il colpo di grazia, prenderete comunque il bonus del duello vinto, quindi non preoccupatevi troppo di chi ottiene la kill. Il vostro scopo è che venga ucciso, mentre è sotto l'effetto del duello. Inizialmente, girate con i compagni di squadra per garantirvi duelli più facili. Inoltre, meglio partecipare ai combattimenti di squadra piuttosto che stare a farmare da soli. Dovete cercare di imparare a selezionare i vostri obiettivi per i duelli, specialmente all'inizio. Cioè, prendete di mira piuttosto i support come Crystal, Shadow Shaman o un Rubik, perché se voi per caso poi si rivela che era una trappola e quindi vi uccidono, date il bonus a un eroe support che di avere il bonus di auto-attack non se ne fa nulla. Quindi è meglio darlo comunque a loro, e comunque sono obiettivi semplici, piuttosto che darlo invece a un carry nemico. Oggetti che danno armatura sono particolarmente indicati per il Legend Commander, dato che dopo i primi duelli vinti avrete il bonus del duello che vi dà i danni, insistenza d'attacco che vi dà la velocità d'attacco, e l'unica cosa appunto che vi manca è l'armatura. Prima di fare il duello, usatevi insistenza d'attacco, in modo da avere la velocità d'attacco a vostro favore. Tutti gli oggetti che possono dare velocità di attacco e salute sono buoni per il Legend Commander, dato che deve essere più tank possibile, per resistere ai duelli, e più velocità d'attacco possibile per finire più velocemente i vostri avversari. Quindi all'inizio puntare su oggetti che danno solo danni non è la scelta migliore. Con questo non significa che per esempio un desolatore è sconsigliato, solo evitate di farlo come primo oggetto. Giungla o lane? Evitate di vedere il Legend Commander come un jungler, vedetela come una possibilità di ripiego in caso ci fosse in squadra un altro carry, che non può farmare in foresta e la lane opposta è già occupata. Ma evitate di avere i paraocchi per stare in foresta quando lasciate un support da solo in lane. Per il resto, la lane in cui avete a disposizione la vostra foresta è la migliore scelta, dato che potrete farmare in lane anche se vi tengono sotto pressione. Grazie all'assistenza all'attacco, che di fatto vi dà rigenerazione della salute, se state pushando la lane non rischiate di cadere in gank nemici allontanandovi dalla vostra torre, piuttosto entrate a farmare in foresta. Con Tresden avete la possibilità di non tornare mai alla vostra base. I vostri tempi devono essere scanditi da combattimenti e farmare in lane o foresta, non importa, e se venuti uccisi, non abbattetevi. Con Legend Commander le capacità di poter stravolgere le sorti della battaglia sono impressionanti, e non abbiate fretta, il tempo della partita è a vostro favore. Più farmerete, più difficile sarà per i nemici di contrastarvi. Se farmate in foresta, vi basterà aumentare il momento di coraggio. Evitate insistenza all'attacco all'inizio, dato che dura poco e non avete molto mana da spammarla, cioè da continuare a usarla. Bene, passiamo agli oggetti di partenza. Uno scudo robusto è la scelta obbligatoria, sia che farmiate in lane sia in foresta. Un set di tango è fondamentale, comprate una lama della repressione per poter farmare meglio, o specialmente sia in foresta. Evitate di prendere punti iniziali in probabilità schiaccianti, e preferite piuttosto un momento di coraggio. Oggetti inizio partita. Anello di Basilius, per l'armatura che vi dà la rigenerazione del mana, e vi dà anche un po' di danno bonus, che non farà mai male per l'artitare. La bacchetta è comoda se siete in lane, in una lane diciamo molto attiva, necessitate di mana. Inutile se state farmando in foresta. Oggetti fondamentali. Allora, questi sono gli oggetti che veramente dovete avere. Innanzitutto, dovete avere al più presto, come primo obiettivo, gli stivali della potenza, che vi daranno sia danni, sia velocità di attacco. Cosa fondamentale per noi. Inoltre, se vi ritrovate senza mana, potrete cambiare il loro attributo su intelletto, per avere abbastanza mana per lanciare il duello. Altro oggetto che è fondamentale, sono i bracciali di Mordigan. Eccellente, dato che vi dà velocità di attacco, danni, armatura, rigenerazione di salute, praticamente tutto quello che serve a Tresdi. Il costo in salute, mentre attivo, sarà sopportabile, grazie al momento di coraggio. Il bracciale può salvarvi la vita, se con il giusto tempismo, lo disattivate, e riattivate subito, dato che vi dà più 25 la forza, quando lo attivate, e quindi salute. Attivateli prima di un duello, o mentre state attaccando una torre, uniti a insistenza all'attacco. Oggetti situazionali. Allora, come già accennato, ci sono molti oggetti che possono fare come da Tresdi. Dipende da voi fare le scelte giuste. Considerate queste opzioni, comunque. Allora, il Blink Dagger, cioè il pugnale del baleno, a mio avviso è molto situazionale. Per il suo costo di oltre 2000 di ori, non sempre può esservi utile. Alcuni preferiscono una lama dell'ombra, cioè la Shadow Blade, per sfruttare l'effetto sorpresa, ma forse è meglio concentrarsi su oggetti, che aumentino la velocità di attacco. Se siete contro un team che girano sempre in 5, ci saranno poche occasioni di ganchi isolati, e saranno soldi buttati. Questo perché? Perché, ok, Blink Dagger e Shadow Blade sarebbe una cosa, diciamo, da pro, perché, da pro, insomma, da, da un buon player, perché dice, beh, io, i miei bonus di danni, li faccio con, vincendo i duelli. Il problema è che, vincere i duelli con un team che gira sempre in 5, che ha coordinato, vi saccagnano di botte, ragazzi. Vi saccagnano di botte. Bene, altro oggetto è la cotta di lame, c'è la Blade Mail, che vi dà armatura, danno, e anche intelletto. Usatela prima di lanciare il duello, in modo da sfruttare anche il danno dell'avversario per eliminarlo. Indicata se siete contro eroi agilità, che hanno poca vita, ma molti danni, come il Void o il Phantom Assassin. Il desolatore è ottimo, dato che vi permetterà di ridurre l'armatura dei nemici, e questo vi permetterà di eliminarli più facilmente. Inoltre sarà utile anche contro gli altri carry, e anche agli altri carry della vostra squadra, per abbattere più velocemente un nemico. Evitate di farlo come primo oggetto, assicuratevi di avere almeno gli oggetti fondamentali. C'è gente, c'è, così, che gira con, senza stivali, completi, e punta al desolatore, senza avere la velocità di attacco. Il, il, sì, il Blastone, il Blastone del Re Nero, Black in Bar. Ottimo se siete contro un team, dove hanno molti stun, come Lion, Sven, Nyx, e non volete essere interrotti, mentre duellate. Ricordatevi di attivarlo, prima di duellare. Comunque, se avete la possibilità, vedete che contro avete un team, che hanno 10.000 stun, evitate il Legend Commander, perché, se, girano coordinati, se fate un duello, avete, siete praticamente fermi. Altro oggetto, la Mjolnir, che è un eccellente oggetto, per Tresdin, per la sua velocità di attacco, il bonus, e il danno. Solo ricordatevi, di usarla, prima di duellare. Dato che a questo punto, la velocità di attacco, è la nostra principale necessità, comprate un'iperpietra, e poi, decidete, se costruire una Mjolnir, o una corazza d'assalto. La corazza d'assalto, è eccellente, per la velocità di attacco, stesso discorso, solo che, è particolarmente indicata, per vincere duelli, in late game. A mio avviso, la corazza d'assalto, per, Legend Commander, è un oggetto, che un po', diciamo, si fa, quando magari, c'è un altro carry in squadra, perché, altrimenti, la vedo un po' strano, come oggetto, fondamentale. La satanica, se vi serve più, prosciugamento di salute, ci conferisce forza, che, ok, ci serve, ma ricordate che, è un momento di coraggio, molto spesso, ci conferirà il prosciugamento di salute necessario, e funziona anche, mentre duelliamo, cosa che non fa la satanica. Quindi, è vero che non sempre stiamo duellando, ma se le ragioni sono realmente quelle, ripiegate su un elmo del dominatore. Vi dà armatura, rigenerazione, più life steal, e se prendete il creep neutrale, lupo alfa, potrete beneficiare di critici, della sua aura. in conclusione, sì, critici, danno aumentato, in conclusione satanica, molto, molto, occasionale. La labarda del cielo, ci rende più resistenti, dandoci elusività, e forza, disormare il carry nemico, e poi fateci un duello, per vincere facilmente. Ricordate però, che l'evasione, è disabilitata, mentre duelliamo. Quindi, mentre duellate, sognatevi il fatto di schivare i colpi. Poi, lama abissale, dopo lo stocco divino, è l'oggetto che ci dà più danni. Evitate di farlo come primo oggetto, dato che è troppo costoso, e durante i duelli, non beneficerete del bash, e nel meno dello spacca crani. Ma late game, può fare la differenza, inoltre avremo uno stun, tutto per noi. Ottimo, late game questo. Bene, ora c'è, diciamo, la build, per la lane, che io, non sto qua a dirvi un punto qua, un punto là, vi lascio, qua la, immagine, con tutti i punti assegnati. Ora invece la jungle build, cioè quella per farmare in jungle. Guardate che comunque, cambia la partenza, cioè, alla fine, queste due, diciamo, build, cambiano per l'inizio, poi, come evolve la partita, sono, diciamo, affari vostri. Bene, ora passiamo, agli eroi che contro il legge commander, sono forti. l'abandon, che una volta che lo portiamo a 400 punti salute, si rigenera col tempo rubato. Poi, il dazzle, perché, ovviamente, non l'ho inteso, ma la sua abilità, sepoltura prematura, che gli permette di salvare il vostro bersaglio, del duello. Anche se poco dopo lo ucciderete, perché potete usare comunque, la pioggia di frecce, per capirci, non avrete ottenuto il bonus, della vittoria del duello, ecco perché, diciamo, sta sulle palle. Poi, l'omnic knight, che con la sua finale, può impedirvi di vincere il duello. I peggiori di tutti, sono il lifestealer, dato che, con immunità magica, non potrete farci il duello, e l'enchantress, perché il suo incanto, vi ridurrà di molto, la vostra velocità di attacco. Poi, il legge commander, è forte contro la draw ranger, perché, una volta in duello, la draw ranger, non ha possibilità di scampo, dato che ha pochi punti salute. Ecco, con la draw ranger, potrei dirvi che, un blink dagger, sarebbe, andrebbe anche bene, perché, fate il blink, tirate, tirate la velocità di attacco bonus, e fate il duello, la draw ranger, è un eroe, agilità, quindi, in particolare, la draw, ha pochi punti salute, quindi, potreste, mangiarvela. Poi, il, bristleback, perché, questo, perché il duello, di base, lo pone di fronte a voi, quindi, la sua passiva, schiena cumminata, quello che riduce i danni, per capirci del 40%, non avrà effetto, ok? Considerate, comunque, che è un tank, quindi, evitate di prendere di mira lui, per avere dei duelli vinti, perché, di solito, se avete un bristleback in partita, inizia a farsi il vanguard, poi, fa cotta di lame, insomma, diventa anche un rischio. Poi, il bounty hunter, perché, poca vita, e non potrà diventare invisibile. Ottimo, bersaglio, stessa cosa per Ricky, se piazzate per terra un guardiano sentinella, potete bloccarlo per 4 secondi, in duello, e non potrà uscire dal raggio della sentinella, permettendo al vostro team di massacrarlo. I migliori amici, allora, il bloodseeker, perché vi do la possibilità di vedere sulla mappa i nemici, a pochi punti salute, quindi, ottimi per duellare, ecco, se avete così un bloodseeker, potete anche dire, ok, posso fare blink dagger, e so già che hanno poca vita, li sorprendo, mentre sono in giang, cioè, mentre gianglano, magari, è così, ovviamente, dipende anche dai nemici, quanto sono tonti, perché, potrebbero, comunque, immaginarselo, e poi, Puge, perché, come vi ho già detto, per il discorso, che, lui, ha beneficio, quando, muore un eroe vicino a lui, e guadagna forza, con la sua passiva, invece, voi, il vostro problema, è arrivare, ai nemici, e Puge, ve li tira a voi, e voi, vi fate il duello, l'emico muore, dal bonus, sia voi per il duello, vinto, sia al Puge, perché è morto un eroe vicino, bene, spero che questa guida, vi sia stata utile, mettete un mi piace, se, vi è piaciuta, e se volete che ce ne siano altre, e condividete, commentate, se avete, dubbi, aneddoti, anatemi, o quant'altro, e, ci becchiamo al prossimo video, ciao a tutti, grazie, 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 Grazie.